Andrea Capanni è il nuovo allenatore della prima squadra del Montecchio e assieme al nuovo DS Enea Ligabue che ha sostituito Ivan Galaverna ripartirà proprio dalle motivazioni confermando solo coloro che dimostreranno di credere nel progetto e che sentiranno ardere dentro di loro una gran voglia di riscatto dopo una stagione un po' deludente. A livello di conferme il DS Ligabue sta parlando con tutti i giocatori della Rosa partendo proprio dai giovani. Rimarranno infatti i 2004 Matteo Bartoli e Marco Mirabella con il passaggio invece dalle Uniones regionale promossi in elite grazie al mister Luca Padula, Di Emanuele Stasi e Samuel Mirabella. Resteranno in prima squadra anche il 2003 Filippo Contini che ha già fatto tante presenze da titolare l'anno scorso e l'attaccante Luca Bevilacqua anche egli essendosi messo in evidenza molte volte con ottimi risultati. Così come sarà confermato quasi in toto il blocco dei difensori centrali con Matteo Longhi, Simone Neri e l'esperto Jacopo Oliomarini. A centrocampo piena fiducia anche a Luca Bassoli, Alessandro Colombini e Giole Lusetti. Così come in attacco si punterà sull'esperienza di Matteo Attolini che mister Cappanni spera possa fare ancora coppia fissa con Andrea Bedotti dietro i quali di essi Ligabue ha ben pensato di inserire un giocatore tutta fantasia, Nicolo Dallaglio, che quest'anno ha fatto un'ottima stagione con la Vienese. Non rimarranno invece a Montecchio l'esterno alto Matteo Bianchini, il finificante destro Marco Guareschi, il fantasista Cesare Capitani, la mezzala Davide Grendene e il difensore centrale Michele Margi, ormai ex capitano giallorosso. In porta ci sarà invece l'esperto Alessandro Terzi in uscita dal felino. Ecco il pensiero di mister Cappanni. Beh, quando si partono a fare un campionato nuovo è fondamentale partire con idee chiare. La prima cosa, come tutte le società devono pensare, è salvarsi. Primo obiettivo per tutte, anche perché puoi trovarsi impantanati in zone non consone a una squadra come Montecchio, e dopo è difficile saltarci fuori. Si cercherà di fare il meglio possibile e poi sarà al campo a dire se saremo all'altezza per fare un campionato da medio-alta classifica. Abbiamo cercato di confermare i giocatori che avevano più voglia e più intenzione di rimanere. Stiamo costruendo una squadra con dei giocatori richiesti da me e il direttore sportivo si sta muovendo benissimo. Siamo sulla strada buona, manca ancora un paio di giocatori, non di più. Qua ci sono giocatori importanti che non hanno fatto bene, che hanno voglia di riscattarsi. E questo per me, aver voglia di riscattarsi, per un giocatore è fondamentale. Nel frattempo il DSNE Aligabù ha messo a segno un altro colpo importante, riportando a Montecchio il fluidificante Simone Blotta, che nel dicembre della scorsa stagione aveva lasciato i giallorossi per salire di nuovo in eccellenza ad Arceto. Sentiamo cosa ci racconta il terzino. Guarda, decisi di andare ad Arceto perché mi diede l'opportunità di partecipare nuovamente al campionato d'eccellenza, come feci negli anni passati. In questi giorni, quando il direttore Rigabù mi ha contattato, non ho esitato ad accettare perché non mi piace lasciare le cose a metà. È un percorso che è iniziato ormai già tre stati fa, non vedo l'ora di cominciare.